I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Soverato hanno arrestato un 52enne del luogo, già conosciuto per le sue pregresse vicende giudiziarie, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con lui era presente un 33enne. Il 52enne è stato arrestato, è colto in flagranza di reato e portato presso la casa circondariale di Siano. Invece il 33enne è stato segnalato per uso personale di stupefacenti alla prefettura. Il 52enne alla guida di una city car è stato fermato e sottoposto ad un controllo, ma atteggiamenti di nervosismo hanno insospettito i militari, che lo hanno scoperto in possesso di oltre 70 grammi di hashish, più 380 grammi di marijuana divisa in involucri e altro materiale per il confezionamento.